Per larghi tratti abbiamo giocato una partita importante, una partita di ritmo dove ci siamo passati la palla, dove dietro abbiamo tenuto, tenendo conto che noi rispetto a una squadra come Roma abbiamo un deficit di taglia fisica e ci sono dei canestri nel finale che lo dimostrano. C'è un canestro di Sandri contro Musso che viene fatto perché Sandri è più alto, molto difficile tra l'altro, o i possessi così profondi in fondo di Sims contro Martinoni. Abbiamo giocato secondo me la partita che volevamo giocare, provare ad aprire il campo, provare lo stesso a tenere alto il ritmo perché questa è la nostra caratteristica. Infatti finiamo con 70 tiri del campo ancora una volta e dopo, adesso bisognerebbe che io la riguardassi con un pochino più di attenzione, ma se vado ad analizzare così alla spicciolata dico ci sono stati tre possessi dove Sims è stato bravo a buttare fuori la palla e ci hanno fatto canestro da tre punti, Landi, Kesse e Baldasso. Noi dall'altra parte siamo andati in modo diverso ma abbiamo costruito dei tiri da tre punti con i piedi per terra e li abbiamo sbagliati, ne ho in mente uno di De Negri davanti alla panchina di Roma, ne ho in mente uno di Pinkins completamente aperto su un piccarol laterale, per cui alla fine adesso si può anche fare della filosofia, si può dire avremmo potuto fare meglio una cosa, l'altra è come giocare a carte, e dopo io sto dietro, vedo cosa giocano gli altri e dopo sono sempre bravo. La realtà dice che secondo me la sensazione che mi rimane tra le mani è quella che la mia squadra abbia giocato una buona partita, che Roma ci abbia fatto vedere perché è la squadra favorita secondo me a vincere il nostro campionato, perché oltre a una profondità di roster importante che gli ha permesso di superire la mancanza di un giocatore e mezzo, ha giocato negli ultimi dieci minuti una partita molto fisica, molto fisica, sono stati molto bravi, però è vero anche che, ripeto, fanno le canestre da tre punti, sbagliano le canestre da tre punti, con i piedi per terra, è un gioco di uomini che a noi allenatori piacerebbe rendere perfetto, che in realtà rimane imperfetto, per cui rimane secondo me quanto di buono abbiamo fatto, che era giocare una partita solida, fuori casa, su un campo importante, e questo è stato fatto. Poi da lì ci sono dei particolari che vanno discussi, ne ho già parlato con la mia squadra nel spogliatoio, ci sono delle cose che vanno messe a posto, come ogni allenatore ha dopo una partita. A volte a Caldoni hai molti di più rispetto, poi rivedendola la rivedi e dici, ma forse sta roba qui da me, poi c'è anche i meriti degli avversari, perché poi perdi, perché ci sono degli avversari forti che giocano in maniera importante e fanno cose importanti. Per cui, ripeto, secondo me è stata una bella partita, la partita è stata da noi interpretata bene, su alcuni episodi abbiamo fatto cilecca, da questa cosa ripartiremo per metterci in bolla sulla prossima partita, che per noi è un derby, è una partita molto importante. Allora, noi giochiamo con, aiutami faccio i conti, uno, due, tre, cinque, cinque under e un esordiente dalla Serie B. Due americani che non hanno mai giocato in Italia, adesso voglio dire, pensare che in sei giornate noi diventiamo, a Legnano ci ho messo tre anni prima di iniziare a vincere con l'Università Fuori Casa, cioè le cose se venissero fuori così, Roma non è stata costruita in un giorno, cioè non è il mio modo di pensare, so che esiste questa cosa che magari dopo due o tre partite si può tendere a fare dei bollaggi, però ogni partita è un caso a sé. A Cassino abbiamo giocato realmente male, l'abbiamo portata a casa semplicemente perché siamo più forti. A Trapani abbiamo avuto un inizio disastroso, però ci sono stati anche dei meriti di Trapani, che la settimana dopo ha rigiocato un'altra partita da 20 canestre da tre punti, però due volte da meno 20, siamo andati pari e abbiamo avuto il pallone per vincere la partita. Giocare una partita ad alto punteggio. Oggi giochiamo invece una partita molto fisica, una partita difensiva, e vediamo qui, l'idea era proviamo a giocare la nostra pallacanestro anche fuori casa, abbiamo tirato, ripeto, 70 tiri dal campo, noi abbiamo provato a farlo, poi ci sono situazioni in cui se facciamo due canestre da tre punti in più siamo bravi, a volte siamo meno bravi, per il modo in cui giochiamo è logico che è una pallacanestro che permette ai giocatori di prendersi delle libertà e delle responsabilità, per cui a volte abbiamo degli eroi, a volte abbiamo dei non eroi. Non è il mio modo di vedere, cioè non sono eroi quando segnano, non sono non eroi, sono buoni giocatori che a volte segnano, che a volte sbagliano. L'importante è sempre l'idea con cui noi lasciamo il campo. Io penso che noi anche stasera abbiamo lasciato il campo con l'idea che siamo una squadra, che siamo coesi, che siamo lì, che lottiamo, che giochiamo a pallacanestro, che abbiamo i nostri alti, i nostri bassi, però, ripeto, andiamo a trappare, ne ha sotto i 20, comunque giochiamo e trappare in un campo non semplice, vuol dire, ed è una signora squadra. Veniamo qua a Roma, stiamo avanti per 35 minuti e poi dopo nel finale, va bene, arriviamo a corti su un paio di cose, comunque continuiamo a costruire i buoni tiri. Vi faccio un esempio, magari stupido, chiamo un minuto e dico, ok, meno 10 per noi è importante differenza canestre, torniamo in campo, comunque abbiamo fatto anche l'ultimo canestre, perciò di una squadra che ha dei meriti nello star lì con la testa. Poi, ripeto, il modo di giocare che ho scelto quest'anno è diverso da quello che facevo gli altri anni e è inerente alle persone che avevo. Logico che quando avevo Mosley non giocavo in questo modo, voglio dire, questo è il punto. Però l'importante è che ci sia l'idea, e penso che noi la diamo, di essere tutti su una pagina e di provare a fare le cose, ripeto, interpretazioni migliori, interpretazioni peggiori, perché siamo uomini. L'ho trovato, com'è lui, un giocatore comunque di grande intensità, perché alla fine è un giocatore di impatto fisico. È un giocatore che sta vivendo una trasformazione, perché lui ha giocato in un college di basso profilo. Dopodiché ha giocato due anni nello stesso posto a Danao, in seconda dell'età catelesca, una squadra di medio profilo. L'anno scorso, in Bundesliga, al Mitteldeutscher, in una squadra di basso profilo, di un ottimo campionato, era un cambio della panchina. Adesso non gli stiamo dicendo, ti dina la palla un po' sesso su due, vedi cosa fare. È diverso, è diverso quello che gli chiediamo rispetto. Secondo me è un giocatore che sta dimostrando di avere grandi qualità, obiettivamente. Poi parliamo di un ragazzo sempre del 93, cioè un ragazzo giovane, giovane, giovane. Ogni tanto ha dei momenti in cui può andare, infatti che adesso è due partite di fila che sta tirando male. Anche la precedente Corrieti aveva tirato male, aveva fatto due canestre in fondo importanti da tre punti, perché comunque è la scelta. Noi tutti, tira, cioè se la senti, tira, gioca con fiducia, al limite a un certo punto ti cambi, ti siedo e stai lì vicino a me. Per quello che è il suo percorso, penso, di crescita, è comunque un giocatore che deve, se vuole anelare a un livello più alto, avere una doppia dimensione, cioè quello che può fare spalla canestro di energia, però avere una dimensione frontale dove mette la palla per terra, dove tira, e queste cose lui sta imparando a farlo. In più perché si sposano bene anche con il fatto di avere con Martinoni un giocatore intercambiabile e col fatto che quando entra Cattapan entrambi possono spostarsi lontano per giocare insieme a un giocatore d'aria e quando entra Battistini entrambi possono andare più vicino. Perciò l'idea della squadra era questa. Io sono molto contento di Cruis, sono anche a volte molto duro perché è logico che lui nella nostra squadra ha delle responsabilità importanti, però sono contento perché è un ragazzo bravo, si allena molto bene, una persona silenziosa, un ragazzo pulito, per cui, ripeto, e per adesso, secondo me, quello che ha fatto vedere in questo campionato sono cose da giocatore assolutamente importanti. Allora, la cosa che vorrei rifare è che vorrei fare 10 su 10 altri punti e vincere di 20, e questo mi sarebbe piaciuto molto. Però la realtà dice che poi Roma, secondo me, ha difeso in maniera egregia, cioè ha difeso la grande squadra, come deve difendere una squadra che vuole vincere il campionato, nel senso, in casa, soprattutto, nell'ultimo quarto, ti mette il corpo addosso in ogni situazione, sa di avere tanti giocatori, perciò se qualcuno va in problemi di falli ne mettiamo dentro un altro ancora più grosso e forte uguale, e dice, va bene, adesso giochiamo così. Perciò, logicamente, come ha detto Piero Bucchi, a un certo punto la coperta è corta, perché molto presenti in area, Sims in mezzo, molto attenti al fatto di mettere le mani addosso, succede che poi ti lasciano qualche tiro aperto, che noi abbiamo sbagliato. Io adesso, su questa cosa del tirare tanto da tre punti, tirare poco da tre punti, innanzitutto bisogna vedere dove sta andando il gioco, e il gioco va in quella direzione. Il gioco va in quella direzione, ma va in quella direzione anche se noi portassimo la linea a distanza NBA, perché dei giocatori che c'erano in campo, voglio dire, se gli portiamo la linea mezzo metro più indietro, dopo un mese di allenamento, e tirano tutti i cosi, la canestra eccessivamente difensiva, è un sofisma mentale che può piacere agli appassionati, ma la famiglia che viene a vedere la partita, ma si diverte quando vede 100, se noi vogliamo tornare a essere uno sport coinvolgente, il bambino quando va in campo a giocare, ma si diverte perché fa un canestro, non perché fa un passaggio, un blocco, un tuffo, dopo quello diventa un piacere perché impari a giocare. Per cui io penso che la prima cosa sia quella per i giocatori di adesso, che sono diversi dai giocatori di una volta, quella di dire loro, ti stiamo chiedendo tantissimo difeso, i giocatori di adesso hanno un'applicazione, un'energia difensiva, una capacità difensiva che non è neanche paragonabile a quella dei giocatori di prima, perché è cambiato anche il regolamento, perché è cambiato il regolamento, l'interpretazione del regolamento, e la maniera dei contatti. Dopo è logico che diventa ben difficile per un attaccante a far canestro, perché pidi dei cazzotti fotonici, voglio dire, e non diventa facile. Per cui l'idea che, dov'è che non si prendono cazzotti? Se si apre un po' il campo, se si va a tirare un po' da lontano, cioè perché a mettere la palla dentro. Adesso, voglio dire, è logico, Roma ha Sims, ha dei vantaggi fisici, ma nel momento in cui trovi un giocatore paritetico a Sims a livello fisico che non gli permette di fare quei canesti di vaccinamento, e ma dopo il vantaggio grosso, guarda, poi uno dice, ma sai, non c'è nessuno così come Sims, e questo è il punto. Cioè, comunque, la partita di oggi da Roma è stata vinta, al di là dei canesti di Sims, perché nel momento decisivo lui butta fuori la palla e Roma fa tre punti Landi, tre punti Chessa e tre punti Baldasso. Noi dall'altra parte facciamo Ferros da Dengs, Dudungs da Dengs. Cioè, ormai la palla canestro è questa roba, perché tanto i giocatori e le squadre lì dentro sono sempre prontissimi. Cioè, quando prendi un canestro da sotto, un allenatore viene una sincopi, per primo, voglio dire, ammazzeresti tutti, i giocatori si flagellano, sanno benissimo che è un errore, e perciò quella cosa lì cerchi sempre di toglierla.